io volevo dire... aspetta zio tom prima dobbia parlare nemmi di che hai venuto qua a sparta a vendere dvd accendine perché sennò ti piazzambato in culo fino a tene premesso questo che cosa sei venuto a vendere oddio ma che cazzo mi vedi supporti ottici e articoli perfumatori io sono Eulo amico bello so capito mannaggia santa è la terza foto che me le dici e siccome sono Eulo il dio del vento è qua tu dimmi quello che ti servo una tramontana una maestrale una libbecci una carbine una caffè una bistecca di maiale basta che me lo chiedi io sto qua caccio a sentisti zitti mo te spezzere i nudi vabbone non vincalcete lo prendo io chi è che ha chiamato l'ascensore parla in codice bambone chi ha chiamato il suo è giù il suo è giù ma come cazzo per l'ascensore volevi dire non impazziate per niente che mi vai a cita il soldato santiago è morto perché ha fatto la spia contro ciatteo voi ciatteo non lo conoscete ciatteo è uno che si fa i tatuaggi col black e dagger una volta tirato uno schiaffa una cacullusta ancora girava e non si fermava l'abbiamo dovuto far assumere alle gioste di sant'andrea